Salve e benvenuto al nostro amico. Il nostro libro che vuole anche oggi tracciare un cammino non proprio lineare, ci muoviamo quasi come in un labirinto, costruiamo un rebus, vogliamo suscitare la vostra curiosità. Ma naturalmente qualche punto di riferimento è opportuno. Partiamo dalla Bibbia, dalla Sacra Scrittura, dal San Paolo. Il nostro confratello e concittadino Francesco Piazzolla ci manda le beatitudini dell'Apocalisse. E queste beatitudini vengono illustrate, dobbiamo dire brevemente e con chiarezza, attraverso un cammino che si sviluppa a partire dal carattere del messaggio proprio di questo genere scritturistico, e poi la testimonianza, la continua venuta del risorto, la grande festa alla quale siamo chiamati e la Gerusalemme celeste. Ripetiamo, un percorso, un cammino per la Chiesa, dice il sottotitolo, indicato da questo libro che chiude la scrittura e che non è soprattutto e anzitutto un libro di misteri da svelare, ma una rivelazione che si è già manifestata. Dalle Paoline, la penitenzieria apostolica, mi fai incontrare Dio, i giovani, la fede, la riconciliazione. Il sottotitolo chiarisce perfettamente il senso di questo itinerario. Potremmo usare anche l'espressione classica querere deum, cercare Dio nella riconciliazione, nel perdono. E allora, la confessione dei giovani, ma attenzione, non soltanto accusa dei peccati più o meno abitudinaria, più o meno stereotipa, ma fede e discernimento vocazionale, quindi la confessione come uno strumento per discernere la propria vocazione cristiana. E poi naturalmente chiarire quali sono le difficoltà, i punti deboli tipici della situazione attuale, guardare ai santi e alla loro testimonianza, individuare la propria vocazione, a che cosa il Signore chiama precisamente ciascuno di noi. Naturalmente ci sono anche delle belle testimonianze personali di diversi itinerari, per ripetere ancora il titolo della famosa opera benaventuriana, itinerarium in deum. Allora, Chiara Amirante, Claudia Coll, Sergio Billi, Fino alle conclusioni come attraverso i sacramenti e la liturgia annunciare Cristo ai giovani. Da Tau, tra le parole, un cantico di luce di Giuseppe Contrino. è un tentativo poetico e sottolineiamo questo tentativo, nel senso che insomma non ci convince molto la poesia. Molto meglio, diciamo, e quindi il volume merita di essere guardato, di essere letto, di essere studiato, molto meglio, dicevamo, le note in cui si citano a supporto di questa vena poetica i padri abbiamo sotto gli occhi come amiamo fare a caso Evagrio Pontico. Qui ci sono questi versi or ti dirò qual è l'accesso per questa via commentando il titolo guardate a lui e sarete raggianti è in nota appunto la preghiera è uno stato dell'intelletto che si forma unicamente mediante la luce della Santa Trinità e segue la citazione di Evagrio Pontico chi attraverso pensieri eccellenti esercita in anticipo l'anima splendere costui deterge la colonna della preghiera così che essa diventa brillante e poi ancora nella preghiera avviene la conversione del cuore verso colui che è sempre pronto a dare se noi siamo in grado di ricevere questo è Sant'Agostino e via di questo passo ripetiamo a supporto a integrazione di questi versi che sviluppano un cammino che possiamo anche ricordare vediamo almeno il senso di questo sviluppo poetico a supporto di questo cammino vocazione dell'amore il corpo vivo dell'amore pensieri sull'amor di Dio canto degli sposi il volto splendente guardate a lui e serete raggiando che abbiamo citato è appunto questa antologia di padri e di scrittori scrittori ecclesiastici dalle Dionene di Bologna per l'associazione biblica italiana supplementi alla rivista biblica numero 64 di questa collezione preziosa Oronzo Stefanelli il trafitto che viene con le nubi Apocalisse 1-7 studio intertestuale del primo annuncio profetico dell'Apocalisse e allora scorrendo l'indice per chiarire questo annuncio profetico dell'Apocalisse ecco viene e allora il contesto come sempre la cornice poi i riferimenti all'Antico Testamento in particolare a Daniele ancora lo sguardo al trafitto e finalmente e finalmente che cosa questo insegna che cosa rappresenta per il popolo messianico per dare un'idea del tentativo dello sforzo di costruire questi parallelismi l'oscuro testo di zaccaria 12 e l'identità del trafitto e allora riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di suppliche guarderanno a me a motivo di colui che hanno trafitto ben evidenziato nel testo con il grassetto per far vedere come un testo aiuta a capire l'altro ma veniamo alla conclusione che come sempre raccoglie i frutti di uno studio esegetico molto puntuale e allora che cos'è questa collocazione all'inizio infatti siamo al settimo versetto di Apocalisse primo capitolo e allora si ricorre addirittura diciamo addirittura alle regole retoriche che risalgono già ad Aristotele nei discorsi e poemi epici si ha un'esposizione del soggetto in modo che gli ascoltatori sappiano in anticipo di che cosa parla il discorso il discorso parla appunto del trafitto ma anche l'esempio dei tragici siamo sempre nella classicità greca da cui gli scrittori ecclesiastici più o meno indirettamente hanno attento chi pone l'inizio per così dire nelle mani dell'ascoltatore lo mette nelle condizioni se vi si attiene di seguire il discorso poi appunto la composizione del versetto e la centralità del venuto della venuta quindi del veniente il ripetuto annuncio della venuta nel resto del libro stiamo parlando dell'Apocalisse e poi ancora i discorsi alla chiesa di Tiatira di Filadelfia di la Odicea la venuta è dapprima minacciosa poi di invito e di incoraggiamento e a chiusura dei messaggi si fa ormai imminenza la presenza di colui che trafitto viene nella gloria e passiamo a una seconda sezione da Genomena di Marcello Carlino gli scrittori italiani alla pittura ricorderete che dall'editrice Genomena abbiamo ricevuto e presentato altri volumi tematici sulla guerra sulle arti sulla letteratura questa volta la pittura e quindi dopo una introduzione vediamo per esempio per essere concreti un esempio dalla classicità si tratta della Maddalena di Tiziano vediamo come questa Maddalena di Tiziano viene illustrata in letteratura da Giambattista Marino ma ceda la natura e ceda il vero a quel che dotto artefice ne finse che quel la vea nell'alma e nel pensiero tal bella e viva ancora qui la dipinse o celeste sembianza o magistero ove nell'opra sua se stesso ci vinse fregio eterno dei linee delle carte meraviglia del mondo onor dell'arte questo è Gian Battista Marino il poeta secentesco ma veniamo più vicino a noi un autore a noi molto caro Rebora il rosminiano che vedete come si esprime dall'intensa nuvolaglia giù brunita la corazza con guizzi di lucido giallo con suono che scoppia e si scaglia piomba il turbine e scorrazza sul vento proteso a cavallo campi e ville e da battaglia ricorderete ne abbiamo parlato altre volte il nostro Clemente Rebora che ha partecipato alla prima guerra mondiale poi viene ferito e viene congelato perché ormai ha perso l'equilibrio in seguito alla ferita ma è stato anche poeta e cultore della pittura da biblioteca dell'immagine di Pordenone di Dino Ambrosini il tempo di Narciso memorie del novecento Veneto e si può immaginare le memorie della famiglia della patria della guerra un ricco capitolo è dedicato con affetto a figure di sacerdoti possiamo inquadrare una delle immagini la banda di paese perché stavamo dicendo ancora città distrutta dai bombardamenti stavamo parlando della prima guerra mondiale ancora il Marangon il Falegname e quindi sono scene di vita la firma del concordato una immagine classica che tutti conosciamo e ancora soldati di Yugoslavia durante la seconda guerra mondiale quindi dalla prima alla seconda guerra mondiale potremmo dire rubando un titolo ben più alto tra guerra e pace e da lei dice un disegno con questa bella immagine di un religioso che passeggia nel bosco padre albino candido è lui che ci regala questo diario di un pellegrino carnico riedizione a cura di Pierangelo Piai perché padre albino aveva pubblicato questo suo diario dove parla del suo ministero delle sue letture per esempio acquisto il libro di Rahner sulla teologia della morte Karl Rahner il famoso teologo gesuita stamattina le crete mi guardano ridendo stasera la luna del cielo mi protegge nel suo bianco silenzio e via di questo passo sono memorie di questo sacerdote religioso riporta degli appunti dalle sue letture prima che venga il Signore Paolo ci pone continuamente alla luce che si sprigiona dall'invisibile dalle cose invisibili e via di questo passo ma noi vogliamo dare un'idea leggendo la conclusione poetica possiamo e dobbiamo dire di questo diario che troviamo a pagina 272 è un profilo biografico che dà bene il senso della sua esperienza 17 febbraio 1984 festa dei nostri sette santi fondatori si tratta di un servito di un servo di Maria sono venuto a Monteberico da fanciullo ignaro di cosa fosse un ordine che cosa fosse un frate una comunità religiosa in seguito lentamente in modo offuscato imperfetto veni a conoscere questa vita religiosa e veni ad accettarla il mio sentimento di riconoscenza è molto concreto verso il Signore che mi ha concesso di vivere la sua misericordia e verso la Vergine che mi ha sempre dimostrato di amarmi di essermi madre in occasioni molto difficili e drammatiche madre si è manifestato soprattutto nel prevenirmi nel male con il suo ammonimento materno con la grande compassione del mio peccato della mia debolezza e della mia fragilità avrò sempre una preghiera per la mia madre Maria non come premio alla sua protezione ma come necessario alimento alla mia vita di figlio ogni mio quotidiano proposito lo depongo nelle sue mani esili e tanto gentili un bel profilo di un servito di un servo di Maria e veniamo a una pubblicazione della Olski come sempre prestigiose edizioni questa volta di livello bibliografico nella biblioteca appunto di bibliografia Giancarlo Petrella l'impresa tipografica di Battista Farfengo a Brescia fra cultura umanistica ed editoria popolare 1489 1500 siamo agli inizi dell'arte tipografica sono gli inizi gloriosi di Aldo Manuzio e qui naturalmente insieme possiamo inquadrare alle immagini che corredano questi volumi anche la storia l'affermarsi l'affermarsi il ritagliarsi diciamo un suo spazio di questo editore quando ripetiamo Aldo Manuzio già si era affermato ed ecco ancora altre immagini di copertina o che illustrano questi volumi di questo tipografo editore ripetiamo Battista Farfengo che a Brescia pubblica ed è un periodo abbastanza breve riportato in copertina 1489 1500 appena una dozzina d'anni perché poi smette fa altro ma lascia appunto questa ricca impronta agli inizi dell'arte tipografica in Italia altro volume in qualche modo di memoria in questo panorama variegato che stiamo tracciando dalla Firenze University Press per la fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Datini di Prato gestione dell'acqua in Europa XII-XVIII secolo vedete segue il titolo in inglese perché tutto il volume è bilingue allora niente di meglio che andare a pescare una citazione dello stesso Datini questo mercante di Prato a cui è intestata questa fondazione culturale nel 1387 Francesco di Marco Datini chiedeva a un suo medico Giovanni di Banducco di indicargli quale fosse l'acqua migliore tra Montecatini e Porretta qua ha molta gente che vanno al bagno a Montecatini e che fai venire l'acqua qua pertanto io vorrei pregare che mi diceste se vi pari che io faccia venire della detta acqua e berne come Dusanza io e la Margherita e anche c'è alcune che dicono farebbe migliore quella della Porretta e io non ne crederei persona altro che voi due senza vostro consiglio non sono per fare nulla e pertanto vi prego che voi siate insieme e ditemi quello di pare il tempo liberato festa e svago nella città di Francesco Datini a cura di Nigro Firenze 1994 naturalmente moltissimo altro in questo volume di cui scorriamo l'indice è che ci va a vedere come questo problema realtà economica finanziaria politica viene vissuta ordinata organizzata gestita in Spagna nei Paesi Bassi a Granada a Roma nella Toscana nel Veneto e perfino in Polonia e in Russia con una parte dedicata ai disastri naturali che l'acqua può produrre e veniamo a un'altra ricca sezione da Carocci eroe in bilico il risorgimento nei dizionari biografici del Novecento di Maria Pia Casalena e capiamo questo in bilico c'è la discussione storiografica che non finisce mai e allora si comincia dalle lapidi alla patria e i monumenti alla scienza per poi attraversare l'epoca liberale il periodo del fascismo il dibattito nel dopoguerra e naturalmente a livello come dice il sottotitolo dei dizionari biografici che esaltano o ridimensionano questi eroi dalla levante di Bari vedete un grosso volume di Leonardo e Crisetti Grimaldi l'impatto della guerra 1915 1918 a Cagnano Varano e l'idroscalo del Gargano siamo molto vicini a noi intanto ecco l'autrice Leonardo Crisetti Grimaldi di Cagnano Varano che illustra questa vicenda della sua patria che è anche molto vicino a noi e quindi come avendo questo idroscalo perché ricordiamo che ci sono anche dei laghi interni al Gargano avendo l'idroscalo diventava anche un punto di riferimento degli attacchi nemici perché di lì partivano gli idrovolanti e naturalmente in tempo di guerra San Nicola Varano l'idroscala del Gargano diventa un punto di riferimento come possiamo vedere in queste cartine moltissime illustrazioni foto documentazione sia dell'epoca sia dopo come stiamo vedendo qui a sinistra questi locali poi abbandonati e che in parte si cerca di riadattare per farne memoria storica molto spazio dedicato anche all'attività didattica dell'autrice indice dei elenchi dei caduti dei militari delle decorazioni dei riconoscimenti al valore insomma una ricca documentazione di storia locale che entra nella storia nazionale e da Solfanelli riconoscerete dalla copertina ancora un volume di questa serie che stiamo presentando vedete di Solfanelli di Fabrizio Di Lalla quindi un editore Solfanelli di Chieti e uno storico Fabrizio Di Lalla che dovreste ormai ricordare aver memorizzato un posto al sole la colonizzazione demografica in Africa orientale italiana in sopra coperta questa immagine di militari ma anche di un trattore e poi in quarta di copertina ancora un'immagine di questa colonizzazione con una casa colonica un allevatore un contadino e una donna che tiene sulle braccia un bambino e allora questa storia che noi stiamo ripercorrendo attraverso i vari volumi e che viene riccamente documentata anche vedete abbiamo sotto gli occhi a volta i documenti prendono una buona parte del testo sono documenti ufficiali sono lettere che si scambiano i primi coloni con il resto della famiglia poi ecco queste cartine che fanno vedere i progetti i primi realizzati i molti altri non realizzati fino poi naturalmente al tracollo che abbiamo ricordato con la prigionia dei militari e il rientro in patria dei familiari e per concludere la prima corposa parte da Erickson l'editrice di Trento specializzata in questi queste realtà questi problemi di psicologia di psicanalisi di cura degli ammalati Pamela AIS i quattro segreti della felicità con un'intervista a Paolo Crepet l'intervista apre il volume e illustra naturalmente i criteri che devono accompagnare qui vediamo anche un'immagine dell'autrice di questo volume Pamela AIS psicologa clinica attività di ricerca presso l'istituto nazionale di salute mentale di Rochester e poi naturalmente le pubblicazioni dicevamo dopo l'intervista si sviluppa il volume possiamo vedere l'indice inoltrarsi sul cammino del benessere cammino del benessere che deve essere in qualche modo percorso da tutti diciamo in qualche modo nel senso che qualche volta è più difficile ma non bisogna mai rinunciare comprendere i propri stressor che cosa ci stressa che cosa ci fa fatica che cosa magari addirittura ci addolora usare i pensieri per sentirsi meglio c'è un pensiero negativo e c'è la voce della compassione creare un ambiente salutare allora vediamo una citazione che ci può illustrare il il metodo il criterio fra tanti riquadri che come sempre accompagnano questi volumi vedete con questionari da riempire con domande alle quali rispondere sono dei prospetti dunque dicevamo se facciamo amicizia con noi stessi non incontreremo alcun ostacolo nell'aprire i nostri cuori e le nostre menti ad altri e allora una piccola spiegazione introduttoria dopo questo detto sapienziale c'è una storia su un vecchio indiano che dava lezioni di vita al nipotino il vecchio disse al bambino nella mia mente come in quella di chiunque altro ci sono due cani in lotta fra loro il primo è un cane maligno pieno di rabbia odio paura vittimismo ingordigia arroganza l'altro è un cane gentile e amabile generoso pacifico umile fiducioso sincero e compassionevole ogni giorno questi due cani si scontrano il bambino si fermò un minuto a pensare poi parlò dimmi nonno quale dei due cani vincerà e nonno gli rispose vincerà quello a cui darò da mangiare questa è Pamela Heiss con i quattro segreti della felicità da Erickson di Trento ripetiamo ancora specializzati in questi volumi di psicologia psicanalisi aiuto a chi è in difficoltà risalendo un posto al sole la famosa espressione diventata poi drammatica e tragica della propaganda fascista da Solfanelli la colonizzazione demografica in Africa orientale italiana da Levante di Bari di Leonardo Crisetti Grimaldi l'impatto della guerra 1915-18 a Cagnano Varano e l'idroscalo del Gargano da Carocci eroi in bilico per esprimere il carattere di discussione di polemica bibliografica e ideologica e il risorgimento nei dizionari biografici del novecento di Maria Pia Casalena dalla fondazione Datini per i tipi della Firenze University Press gestione dell'acqua in Europa secoli XII-XVIII naturalmente quando si dice acqua sono i fiumi l'acqua da bere sono le terme e abbiamo letto una citazione dello stesso Datini da Orski per la bibliografia di alta cultura di Giancarlo Petrella l'impresa tipografica di Battista Farfengo a Brescia fra cultura umanistica ed editoria popolare e vedete 1489 1500 siamo agli inizi e quindi diventa in qualche modo un concorrente anche se indirettamente perché Battista Farfengo si ritaglia un suo spazio non entra in competizione con il più famoso Aldo Manuzio perché si tiene piuttosto su un'altra scelta di pubblico una sezione con il diario di un pellegrino carnico padre Albino Candido dall'editrice Segno dalla biblioteca dell'immagine il tempo di Narciso sono memorie del novecento veneto di Dino Ambrosini e da Genomena una serie nella quale abbiamo presentato gli scrittori italiani della guerra gli scrittori italiani e altri aspetti dell'arte e della vita questa volta la pittura eravamo partiti come andiamo a fare da una sezione di scrittura per l'associazione biblica italiana supplementi alla rivista biblica di Oronzo Stefanelli il trafitto che viene con le nubi in Apocalisse 1-7 e abbiamo visto i passi paralleli altri passi della scrittura ma anche il seguito con i messaggi alle sette chiese da Tau di Giuseppe Contrino tra le parole un cantico di luce e ci siamo permessi di dire non è poi una grande rivelazione non è una grandissima poesia però sono più utili le note che accompagnano il testo poetico con riferimenti a grandi scrittori mistici santi eccetera dalle paoline la penitenzieria apostolica mi fa incontrare Dio i giovani la fede la riconciliazione è un nostro confratello che salutiamo con affetto le beatitudini dell'Apocalisse un cammino per la chiesa il sottotitolo dice chiaramente qual è il taglio di lettura dell'Apocalisse intanto poi delle beatitudini e poi un cammino per la chiesa come sempre a conclusione una piccola succosa appendice dall'editrice Ancilla di Vincenzo Noia Santa Ildegarda di Vincen visioni cosmiche e rivelazioni divine chiarissimo Ildegarda di Vincen è una grande intellettuale che apre il secondo millennio possiamo vedere anche le immagini dicevamo corrisponde con vescovi papi imperatori nobili scrive dei trattati di medicina di astronomia corrisponde con altre religiose e ci lascia appunto questi messaggi questa ricca eredità raccolta in questo binomio visioni cosmiche e rivelazioni divine e concludiamo per davvero con questo volume d'arte viene da Primalpe Cuneo di Laura Marino la fede per immagini storia e devozione attraverso l'arte del territorio cuneese come si può immaginare non è grandissima arte inquadriamo è arte popolare che esprime i misteri della fede la devozione oltre naturalmente ai dipinti che sono raccolti in questi capitoli che ripercorrono i misteri della fede la vita di Gesù la vita della Vergine ci sono anche delle utili note sia sull'autore sugli autori sia sul periodo sia sul significato religioso un bel volume che fa onore a queste edizioni Primalpe di Cuneo che ringraziamo e con cui chiudiamo questa puntata sempre dedicata al vostro gusto e alla vostra attenzione buona lettura buon divertimento arrivederci a Grazie a tutti.